Dopo il successo che ebbe il video dello scorso anno ho deciso anche per questo Natale di darvi qualche consiglio agli acquisti e di mostrarvi solo a voi che mi seguite su YouTube dei prodotti con degli sconti veramente ma veramente interessanti che appunto potreste usare come spunto per dei regalini di Natale o a voi stessi o a qualche amico, compagna o chi più ne ha più ne metta seguite il video fino alla fine perché oltre a mostrarvi questi prodotti ci sarà anche un regalo per chiunque di voi farà anche soltanto un ordine quindi mi raccomando restate sintonizzati fino alla fine del video e quindi cominciamo con il primo prodotto Visto il periodo, visto gli incidenti che sono successi purtroppo anche a un campione come Davide Rebellin anche per questo ma non solo è importante sempre tenere sotto controllo la sicurezza quando si è in bici capisco benissimo che spesso non dipende da noi ma dagli automobilisti che ci girano intorno però vi assicuro che avere una bella luce posteriore molto potente che si vede a distanza è fondamentale se poi questa luce oltre a renderci visibili ci comunica anche se stanno arrivando delle macchine a nostre spalle che magari non sentiamo magari ad alta velocità se quella luce fa anche questo è tutto di guadagnato e quindi la miglior luce, il miglior attrezzo che fa questo lavoro ragazzi è il Garmin Varia RTL 515 ci ho fatto molti video a riguardo quindi se cercate sul canale ma se cercate sul web in generale trovate veramente soltanto che commenti positivi riguardo a questo Garmin quindi è un accessorio che secondo me chi va su strada deve avere e per questo Natale sarà offerto ad un prezzo scontato di 160 euro anziché 200 quindi un bel 20% di sconto vi lascio qua sotto il link in descrizione se volete acquistarlo secondo prodotto ragazzi cambiamo totalmente argomento vi voglio mostrare queste selle della Prologo Dimension con due livelli di telaio differenti infatti c'è sia la versione T4.0 che la versione in tiro X cambia praticamente soltanto il peso questa è una sella da 229 grammi questa da 198 quindi ci sono 30 grammi di differenza sono delle selle che ho voluto mostrarvi ho voluto appunto mettervi in promozione perché è la sella che vendo di più in assoluto è una sella che trovo anche montata su moltissimi modelli di bici quindi è una sella che sento veramente di consigliarvi 143 di larghezza che è la misura più comune che va bene alla maggior parte delle persone bel foro centrale una sella anche esteticamente molto carina per questa volta sono proposte con un bello sconto circa 30% la versione con telaio in tiro X va da 139 a 95 euro mentre quella con telaio T4.0 quindi leggermente più pesante va da 115 a 80 euro quindi veramente una bella offerta per queste due selle che sono veramente un must e veramente un best buy quando si tratta di appoggiare il sedere su qualcosa di comodo terzi prodotti ragazzi qui andiamo su qualcosa che l'anno scorso ha riscosso veramente successo infatti queste due maglie diciamo ve le avevo promozionate anche nel video di dicembre dell'anno scorso e questa volta per fortuna sono riuscito ad accaparrarmele ad un prezzo tale da potervi fare questo sconto eccezionale anche per quest'anno e quindi maglia Shimano S-Fire leggera colorazione blu scuro e rosso veramente una maglia fantastica con tessuto ovviamente molto anatomico elastico tre tasche maniche più leggere S-Fire Flash maglia ancora più pregiata toppe di gamma sempre maniche più leggere tessuto però davanti un pochino più robusto più spesso più protettivo quindi maglia che potrebbe andare bene magari anche per le mezze stagioni abbinata magari con un paio di manicotti sempre tre tasche questa volta in colorazione blu scuro e celeste sempre scritta S-Fire vi ho detto l'ho provata anche l'anno scorso ve l'ho proposta anche l'anno scorso infatti qui in sovraimpressione vedrete le immagini di Simone dell'anno scorso perché purtroppo questa volta non la taglia giusta per me è inutile che me la provi faccio vedere quella dell'anno scorso è tanto identica mi raccomando calzano poco perché sono magliette appunto race quindi adatti a fisici da ciclisti diciamo così comunque veramente taglie abbastanza strettine specialmente la flash che è quella chiamiamo con un tessuto un pochino più robusto e rigido cazzo ancora meno quindi regolatevi bene con le taglie perché si rischia di prendere una taglia troppo piccola dunque qui veramente lo sconto è eccezionale 2,30 di listino per la S5 Flash e scontata ve la propongo a 79 euro quindi è quasi il 70% di sconto per quell'altra leggera da 180 a 69 euro quindi anche qui oltre il 60% di sconto veramente due maglie che capisco non è il periodo ma d'estate con queste farete sicuramente un figurone per finire ragazzi due modelli di scarpe dedicate al mondo donna perché le quade rosa purtroppo sono sempre pochino diciamo messe ai margini quando si parla di ciclismo mentre io voglio investire sul mondo femminile perché ci sono sempre più donne che vanno in bici e sicuramente considerando anche l'evoluzione che sta avendo il ciclismo professionistico femminile ma anche quella amatoriale direi che non è male coinvolgere anche il mondo il mondo rosa quindi voglio proporvi queste due belle scarpe Shimano dedicate alla donna infatti ci sono solo numerazioni da donna colorazioni specifiche da donna per la precisione c'è la XC8W quindi scarpa da cross country con suola in carbonio veramente questo colore dorato nero bellissimo un rotore più uno strappo finale questa è una scarpa che sta con circa il 60% di sconto da 230 a 99 euro quindi scarpa da cross country top ad un prezzo molto scontato poi c'è questa sempre con suola diciamo da bici possibilità di montare tacchetta appunto SPD crank qualsiasi cosa però è una suola più morbida la scarpa è meno rigida ha un solo boa per stringere è una scarpa diciamo adatta per chi ha un e-bike per chi non fa competizione per chi vuole una scarpa appunto più comoda magari anche spinning e questa i-c3 shimano ragazzi è stato un prezzo eccezionale da 130 a sottanto 49 euro la bici di questa settimana ragazzi è questa splendida track e monda s-r-l con gruppo sram red e-tap axis 12 velocità completo di power meter ruote carbon core da 40 taglia 56 peso solo 6 kg e 9 completa di petali grazie ad oscar brignolo per averla condivisa e per chiunque di voi voglia vedere la propria bici pubblicata in uno dei miei video inviatemi foto e descrizione su instagram montax bike e io ne sceglierò una a settimana da mostrare vi ho fatto vedere ragazzi tutti i prodotti che volevo appunto condividere con voi quest'anno perché sono tutti prodotti che secondo me sono validissimi prima di tutto altrimenti non ve li proporrei e sono tutti prodotti che hanno sconti veramente eccezionali che non si trovano sempre o in quantità limitate quindi volevo innanzitutto favorire voi che mi seguite su youtube per appunto potervi permettere di acquistarli a queste condizioni vantaggiose in questo periodo che magari è comodo sia per regalarveli a voi stessi che ad altri ma ragazzi non è finito perché per i primi dieci che affetteranno un ordine anche solo di un pezzo di quello che vi ho mostrato i primi dieci perché di queste ne ho solamente una decina riceveranno in omaggio quindi a costo zero anche se ordinate soltanto una maglietta una sella ripeto qualsiasi cosa riceveranno in omaggio questa crema sotto sella della tunap tunap ragazzi è l'azienda che fa quel fantastico olio che mi ci trovo tanto bene fa anche prodotti per la cura personale e quindi voglio omaggiare i primi dieci di voi che effetteranno un ordine con questo prodotto del valore di 20 euro quindi non è un prodotto da poco è una crema sotto sella che appunto può essere utile a prescindere che abbia dei fastidi al appunto al soprasello o meno perché veramente quando si fanno molte ore adesso a dicembre magari con le vacanze uno aumenta un po' le ore di distanze è una crema molto utile perché permette di ammorbidire sia il fondello che la nostra pelle e quindi avere meno fastidi specialmente poi se si vambisce anche il giorno dopo vi assicuro che con questa si ha una sensazione di freschezza molto maggiore anziché mettere il sedere sulla sella senza spalmare niente questa va messa direttamente sul fondello poi ci si mette il fondello e si pedala per ore con molto molto meno fastidio molto meno irritazione che la pelle asciutta sulla sella spero ragazzi di esservi stato utile con questo video spero di aiutare qualcuno di voi appunto sia a fare regali che magari a trovare un prodotto che mi serviva voleva aspettare dei prezzi più vantaggiosi adesso credo che i prezzi vantaggiosi ci siano vi ripeto le quantità sono limitate trovate taglie colori e pezzi tutti sul nostro sito ciclimontaniti.com vi lascio in descrizione i link per qualsiasi prodotto e vi ripeto per i primi che effettueranno l'ordine scrivetelo nelle note voglio la crema tune up in omaggio perché ho visto il video una cosa simile almeno io so che avete visto il video e ve la posso includere nell'ordine scrivetelo e appunto riceverete questa tune up sport body care con questo ragazzi è veramente tutto vi ringrazio e l'attenzione invito a mettere un bel like e iscrivervi al canale vi auguro buona pedalata a tutti buone feste buon Natale e ci vediamo come al solito ad un prossimo video ciao